Dopo il successo della scorsa edizione, dal 1 al 4 giugno a Pordenone si terrà la quinta edizione di Jets Insieme, una tra le più importanti rassegne jazz in Friuli Venezia Giulia, nonché punto di ritrovo per musicisti amanti della musica provenienti da tutto il mondo. Una rassegna che proporrà DJ set, concerti, mostre e visite guidate, che coinvolgerà l'intero territorio di Pordenone da commercianti, adenti e associazioni. Abbiamo scelto il Museo Civico Ricchieri per ospitare questa conferenza stampa, proprio per simboleggiare che arte si unisce ad altra altra. Jets Insieme, anno dopo anno, si è affermata invece come un'iniziativa di grandissimo spessore, di grande qualità e di prestigio e punta ovviamente a tirare non solamente i pordenonesi, ma gli appassionati di questa musica da tutta Italia. Si tratta di un'iniziativa che ormai si incardina perfettamente nel grande cartellone di eventi, di iniziative, di manifestazioni che caratterizza Pordenone, tant'è che questo ventaglio di opportunità fa di Pordenone di fatto la capitale regionale della nostra cultura. In questo caso non si tratta solamente di concerti e di musica di altissimo livello, ma anche di tanti eventi collaterali che consentiranno ai pordenonesi di godere di un'ulteriore offerta culturale, ma ovviamente il nostro invito è venireci tutti a trovare. Una nuova edizione, anche se siamo solo alla quinta, perché qui cominciamo a sviluppare quello che è il nostro progetto originario, quindi di trasformare questa rassegna in un evento inclusivo di tutta la città, inclusivo perché vogliamo mettere insieme, jazz insieme, tutti gli attori i più possibili di tutta la nostra realtà, sia a livello commerciale, turistico, industriale, ma anche associativo e delle persone ovviamente. Una direzione intanto che cerca di coinvolgere vari generi all'interno di questa musica, fra virgolette jazz, musica di cultura così chiamata, ma in realtà non lo è, cercheremo appunto con questa edizione molto giovane, molto fresca, con artisti anche molto giovani, di svecchiare un po' anche questa parola jazz, che nel collettivo è un po' la musica in bianco e nero, la musica colta, la musica per intellettuali, insomma. Tutto si svolgerà in gran parte a Piazzetta Pescheria dietro al Teatro Verdi, con poi in caso di mal tempo le varie sostituzioni e le location. Cercheremo di coinvolgere la città con anche altri eventi collaterali, quali appunto i concertini nei locali, guide della mostra di Enrico Merlin, Mille Dischi per un Secolo, questi quattro giorni abbastanza pieni, insomma, in giro per la città sicuramente.